L'altissimo Giampaolo Morelli è arrivato al Gifoni e la bassissima Mario ti intervista. No, la tatuatissima Mario, Mario tra l'altro, che Mario, poi scopriremo perché. Come stai? Bene Mario, tu? Posso chiamare Mario? Devi chiamarmi Mario? Tu no, Mario. Ma è semplicemente abbreviato, Mariolina, Mario, non nascondo segreti. Sammi io, Mario, chi eravate? No, amore, siamo io e Mario, e quindi... Io sono un'amante perfetta. Perfetto, esatto, sul telefono, Mario. Sì, ma io è Mario. Senti, i ragazzi ti stanno aspettando. Sì. Ti aspetta una bella giornata. Sì, sì. Sono molto emozionato, nel senso che... Sono anni che sento parlare ai Gifoni, anche perché i Gifoni esistono. Ma è la tua prima volta? È la mia prima volta. Ma si può ripetere il Gifoni? Cioè, poi mi possono anche ripetere volendo... Assolutamente sì. Oh, che bellissimo. Non pensavo che fosse la tua prima volta, se non è... È la mia prima volta a Gifoni. Finalmente sono arrivato pure io. Ho 80 anni e ho raggiunto quel livello per cui posso dire di poter partecipare al Gifoni. Tra l'altro con questo capello, guarda, affunghetto. Sì, effettivamente un po' affunghetto ma ti sta bene. Ti sta bene, no Mario? Sì, 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 fa classe ma non disturba. Esatto. Senti, i ragazzi guardano moltissimo il cinema, ovviamente, ma anche tanta televisione. E tu sei uno dei protagonisti, insomma, anche della televisione. Sì. Oddio, i ragazzi non guardano tanta televisione. No, no, questi 4200 giurati guardano moltissima televisione. Fidati, sanno qualunque cosa, nulla sfugge. No, no, nel senso che alcuni prodotti sono per... Volevo dire questo, che diciamo che la televisione prova a rinnovarsi e quindi ci sono dei prodotti che sono rivolti ai ragazzi e non sempre è facile intercettare. Però tu con i tuoi personaggi... Uno di questi, voglio dire, appunto, che si avvicina anche a un pubblico più giovane è proprio l'ispettore Goliandro. Ti è piaciuta questa avventura? Ti sta piacendo l'ispettore? Insomma, io ti vedo molto in part. Sei figo, mi fai sorridere, sei bravo. Grazie, Mario. Ma pure tu, guarda, sei molto solare, Mario. Sei tatuagico. Mi sta piacendo. Guarda, ho appena iniziato, Mario, tu sei la mia prima intervista. E posso dire che fino adesso è una piacevole esperienza il Gifoni. Poi non so come proseguirà, però per il momento è bene. No, bene, ti faranno semplicemente molte più domande rispetto a me, però niente di preoccupante. Ogni anno Gifoni sceglie un tema. Quest'anno il tema è destination. Alla parola destination cosa ti viene in mente? Ma in che senso destination? Me la vuoi italianizzare? Poi, no, no, è destination. Quindi possono essere destinazioni, destinazioni mentali, confini. Quello che vuoi. È proprio una... Emotivamente, cosa ti viene in mente? Ma io spero come destination, che le mie destination future possano essere sempre qui al Gifoni, perché si sta bene. A fresco. A fresco non lo so. Però insomma, hotel meravigliosi su questo nostro patrimonio che è la costiera. Quindi per me è sempre un piacere ritornarci, perché non ci dimentichiamo, io sono Napoletà. E quindi nel futuro delle mie destinations mi auguro sempre il Gifoni. Grazie Gianpaolo Morelli.